Un saluto a tutti i concittadini di Adelaide, questo vuole essere un omaggio da parte del coro polifonico Madonna di Fatima, diciamo che è la musica che ci unisce in questo giorno speciale per noi e per voi, quindi eseguiremo l'ino di San Giorgio e anche un'altra piccola chicca diciamo, il Gloria di Vivaldi. Un bacio a tutti voi e a presto. Grazie a tutti. Gloria, Gloria 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.